Siccome molte persone stanno a casa e non hanno niente da fare, vediamo crescere di giorno in giorno, come dire, fenomeni, fenomeni tipici di queste fasi, critiche. Continuiamo ad ascoltare predicatori, gente che si improvvisa, come dire, Nobel per la medicina, chi propone cure miracolose, chi propone terapie sperimentate, chi ci ricorda che le università americane hanno già sperimentato sui topi e su non so che le loro terapie, non si capisce perché se hanno le terapie non le utilizzano a New York e negli Stati Americani. Allora un invito a tutti quanti, per l'amor di Dio, facciamo finta di non ascoltare questa valanga di frottole che ci cadono addosso. Poi abbiamo quelli che sono, come dire, informati di tutto, che hanno sempre le proposte decisive per tutto. io cerco di tenere da parte tutte queste cose che rappresentano solo elementi di distrazione, di perdita di tempo. Sono, come dire, quelli che Russell chiamava i movimenti nati per favorire il sorgere del sole. Inutili. Pensiamo a lavorare con serietà.